Il popolo della famiglia, il 26 maggio, vuole sostenere le radici cristiane d'Europa. Vuole dire no a aborto e eutanasia, sì al reddito di maternità, a 1000 euro al mese per i primi 8 anni di vita del figlio, per battere la peste bianca d'Europa che è la denatalità. Il 26 maggio, se scegli queste cose, scegli il popolo della famiglia.